C'è la dispensa? E soprattutto vogliamo che la cabola volessi... Amore! 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 ...che chi è la causa, o perlomeno in parte responsabile di questo problema, poi si ripresenta proprio il risolutore del problema. C'è un controsenso. Noi non siamo nemmeno... Noi, poi queste grandi campagne elettorali, perché di fatto si presentano, vengono a cercare di risolvere i problemi sempre in campagna... Noi questa nostra azione la facciamo sempre, continuamente, tutti i giorni dell'anno. E non sono solo proteste. Ma infatti bisogna stare attenti perché noi siamo portati oggi da un cartello che fa il conto dei soldi che sono stati utilizzati ad esempio per il ricassificatore. 900 milioni per un'opera che non ha portato lavoro, non ha portato niente, è un'utilizzata. Quindi, non solo proteste ma anche... No, ma siccome ora ne devono spendere dei quarti per la terza in Europa, non si vorrebbe che finisse la stessa opera. O. Guardami, guardami, guardami che non il rimo... I. Guardami, guardami, guardami parole e continuano... O. ... Grazie a tutti.